parlare di avvio deludente in questo inizio di stagione per nicolò barella potrebbe essere fin troppo ingeneroso soprattutto perché quando è stato chiamato in causa da simone in zaghi sino a questo momento il centrocampista nerazzurro ha quasi sempre portato a casa la sufficienza dall'ex cagliari però è inevitabile aspettarsi sempre qualcosa in più rispetto al normale del resto stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti in circolazione da anni non solo in italia ma anche a livello europeo per cui la versione standard mostrata sino a questo momento da barella non può bastare ad in zaghi anche perché alle spalle del calciatore sardo c'è un davide frattesi che scalpita e che reclama più spazio rispetto a quello che gli è stato concesso sino ad ora anche nel match di ieri sera perso dai nerazzurri a san siro contro il sassuolo barella non è stato certo tra i più positivi nonostante sia rimasto in campo per tutta la durata dell'incontro il centrocampista non ha mostrato la solita brillantezza sia fisica che nelle scelte una prestazione che sommata alla poca incisività di tanti compagni ha condizionato il risultato finale causando la prima sconfitta ufficiale della stagione dell'inter dopo aver respinto l'assalto da oltre 70 milioni di euro della scorsa estate da parte del newcastle per barella l'inter ha designato di fatti il centrocampista come uno dei perni centrali della formazione di in zaghi le prestazioni meno solide dell'ultimo periodo però potrebbero portare l'inter ad una riflessione diversa qualora in futuro dovessero arrivare proposte difficili da respingere per questa ragione nel sondaggio proposto quest'oggi sui canali social di calciomercato.it abbiamo chiesto ai tifosi a quale prezzo oggi il club nerazzurro dovrebbe aprire all'addio del calciatore sardo e, stata la valutazione da 60 milioni, quella più votata per il cartellino di Nicolò Barella, scelta dal 40,4% degli utenti di Twitter per il 23,4% dei tifosi l'interista andrebbe invece blindato con un nuovo rinnovo di contratto al terzo posto con il 21,3% scelto il valore da 80 milioni, mentre ultimo posto 70 milioni con il 14,9% Inzaghi tampona con Klassen, per gennaio si aspetta Arnautovic. Due opzioni sul mercato Non c'è ragione di farsi prendere dal panico delle tre partite di digiuno per Lautaro Martineo dal minutaggio ridotto nel motore di Alexis Sanchez, in special modo nel primo momento di dubbio dopo un avvio in quinta da parte dell'Inter Simone Inzaghi e la sua dirigenza sono abituati a mettere in conto anche l'andamento peggiore possibile delle cose. E, se questo vale per la Champions League, l'uscita dalla quale hai gironi è prevista a livello economico, lo stesso si può dire per gli infortuni Quello di Marco Arnautovic priva i nerazzurri di un riferimento importante, gettando sulle spalle di Lautaro e Turan tutto o quasi il peso del fronte offensivo, eppure le soluzioni interne ci sono e il mercato degli svincolati non è contemplato Erano Enkita Ryan e Klassen, i giocatori papabili per alzare il proprio raggio d'azione a ridosso della punta ove necessario, Inzaghi ha sciolto il dubbio, l'olandese si sta allenando proprio in quel ruolo, l'armeno è troppo importante per le dinamiche del centrocampo, ora con Barella, ora con Frattesi come omologo L'ex Ajax ha agito molte volte dietro la punta. E visto che Sensi non sembra poter offrire garanzie, sarà lui il quarto uomo da ruotare in attacco per un mese e mezzo circa In quest'ordine di tempo, si dovrebbero avere risposte precise dai muscoli di Arnautovic, e solo allora in viale della liberazione, butteranno giù o non lo faranno un piano d'azione in vista del mercato di gennaio Scenario numero 1. Arnautovic recupera correttamente, si rimette a disposizione di Inzaghi, ritrova il ritmo partita e ricompone il reparto pensato in estate e approvato con Inzaghi per tutta la stagione In questo caso, difficilmente Marotta e Ausilio metteranno mano alla rosa in tal senso, sempre a meno di nuove emergenze Scenario numero 2. L'austriaco non dà garanzie nel suo percorso di guarigione Allora la finestra invernale potrebbe rappresentare una soluzione, perché Klassen è un rammendo di alto livello ed esperienza, ma pur sempre un rammendo Scartata l'ipotesi svincolati, tuttavia, per scegliere una delle due vie sarà necessario attendere ancora qualche settimana Scenario numero 2. L'outriamo